Vittoria comoda e Final Four ipotecata per Novara, che vince e convince in quel di Cuneo. Le prime della classe maturano una vittoria per 3-0 che mette decisamente le cose in discesa in vista del ritorno e dominano al palo Bibanca in un successo mai in discussione. Due set identici delle Gaudenziane lasciano pochissimo spazio di replica a una Cuneo che non trova mai il ritmo e fa fatica a rendersi pericolosa. Gli sprazi di Salas non sono abbastanza per stare al passo con le Bianco-Blu che si affidano con costanza a un Egonu d'applausi. Stefano Velkovic e Michel Barsher recitano da non protagoniste, ma anche la loro è un'interpretazione da Academy e il resto lo fa la tanta tanta confusione della difesa cunese. Nel terzo set le ragazze di pistola sembrano crederci un po' di più, l'innesto di Mancini per Menghi e di Kaczmar per Bosio danno nuova linfa, ma le ragazze di Barbolini sono semplicemente troppo in palla. Carlini fa il bello e il cattivo tempo e le sue compagne chiudono il conto. Per la Igor Gorgonzola ora resta da concretizzare il passaggio del turno domenica per difendere il titolo alle Final Four e alcune non resta invece che presentarsi con leggermente nulla da perdere in questo ritorno.